Finalmente abbiamo il teaser ufficiale di Netflix di The Witch La serie tv tanta attesa che è prevista a fine anno Iniziamo guardando il trailer, poi vi dirò cosa ne penso Garotte di Nivia Il caos è la cosa più pericolosa al mondo Ma senza controllo il caos ti ucciderà Quindi questa è la tua vita Mostri e denaro Così deve essere Qualcosa là fuori ti sta aspettando Questa bambina sarà straordinaria Yennefer, pensa alla donna più forte del mondo Saresti all'altezza In Liefgard sono qui Sono venuti per lei Non puoi scappare dal tuo destino anche se sei terrorizzato Sta arrivando Cerca Geralt di Rivia Non posso farlo senza di te Non importa quello che sceglierai Ti macchierai di sangue The Witcher Ok Su Netflix ma non si sa quando Allora iniziamo a parlare del trailer Allora qui si vede Geralt di Rivia Che passeggia per le strade di una cittadina E potrebbe essere Blaviken Ehm Ho sentito delle storie Potrebbe essere Blaviken Sui Witcher Allora qui mi so perso il mostro Vediamo se lo riesco a recuperare Ok Potrebbe essere la strige In quanto questo sembra il castello di Refoltest Potrebbe essere Adda Potrebbe Non so Perché nelle videogiochi la strige è stata disegnata diversamente Quindi Non so Se l'interpretazione di Netflix di una strige ci può stare Ci può stare Qui è ferito e va via Con la gente che lo guarda brutto Quindi potrebbe essere il massacro di Blaviken Visto che lui viene chiamato il Carnefice di Blaviken Non mi veniva il termine Ehm Perché Durante una battaglia ha ucciso Tante persone in questa cittadina Quindi Potrebbe essere questo il momento in cui viene espulso dalla città Per quello che ha fatto E' vero quello che dicono E' originale Gli elfi sono i veri stregoni del continente Allora qui parla degli elfi Però in realtà queste sono le driadi Le driadi di Brokylon Ehm Le driadi che Dovrebbero essere di colore Verde Però Ci può stare anche Che siano nere Quanto magari è un po' Complicato fare Tante persone di colore verde Quindi Però Ci può stare Hanno fatte tipo amazzoni Più che Driadi Un'interpretazione che Ci può stare E' effettivamente Sono Una specie di amazzoni Perché sono delle guerriere Ehm Con Archi e frecce Qui hanno le lance Ma Effettivamente Loro sono molto bravi Con archi e frecce Quindi La Si può stare La L'abbinamento con le amazzoni Ci può stare Continente Questo è Siri Con le altre Driadi Stavo dicendo amazzoni Ma Sembrano amazzoni Effettivamente Così come sono fatte Ma sono driadi Quando arrivarono mostrie umani Allora qui Tissaia de Vries La preside della scuola di Aretuzza Che Accarezza e consola Yennefer de Wangenberg Yennefer Qui Come vedete E' deforme Ha una gobba E' Molto E' deforme Quindi Lei ha sofferto molto In passato Perché il padre Abusato di lei E' nata così La madre La La rimproverata L'ha offesa Perché Porta Ha portato La chiamava mostro Quindi lei Scappò De casa E andò A cercare Le maghe Per Diventare Qualcuno Quindi Tissaia la prende In affidamento Diciamo E gli insegna La magia Tissaia è una grande maga E gli insegna Grazie alla scuola di Aretuzza A patroneggiare La magia E vedrete Gli elfi Insegnano agli umani A trasformare il caos E vedrete appunto Che Tissaia Insegna Alle altre studenti Come Usare la magia Come sollevare Questa Questa pietra Con l'uso della magia Una guerra Questo è Istredd Il primo Finanzato Di Yennefer Ok Ascolta con molto Attenzione Questa sembra L'isualità Anned Potrebbe essere Allora questa E sempre Tissaia Che spiega A questa studente Come usare La magia Questa studentessa Non so se è Margarita Perché Margarita Nei videogiochi E' bionda Però potrebbe essere Potrebbe essere La versione Netflix Di Margarita Oppure Qualche altra maga Che poi Conosceremo più avanti Pericolosa Il mondo Siri 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 è molto Importante In questo Questo Teaser Ci sono tante Immagini di lei Giustamente Siri È la La figlia Del destino Quindi Lei ha una storia Molto particolare Praticamente Lei è quasi Più protagonista Lei di Geralt Geralt Di Rivia È molto Famoso Per i videogiochi Eccetera Ma Siri è molto Nella storia Ha un ruolo Fondamentale Quindi Ne sentirete parlare Se non siete Appassionati della serie Vi consiglio di leggere i libri Quindi capirete anche Chi è Siri Che è Geralt Chi è Yennefer E chi sono gli altri personaggi Ma Vi consiglio comunque Di leggere i libri Perché Se giocate Solamente I videogames E Vi aspettate Che Netflix Vi faccia vedere Quello che voi avete visto Nei videogames No Perché la serie È ispirata Solamente Dai libri Di Andrei Sapkowski Quindi Se volete Saperne di più Prima di vedere La serie Su Netflix Leggete i libri E qui Yennefer Che spacca Il vetro Con violenza Perché si guarda Allo specchio Si vede Molto brutta E Arrabbiata Con se stessa Con tutto quello Che ha passato Per quello Che ha fatto Il padre Per il fatto Che si è dovuta Scappare di casa E qui Sfoca tutta la sua rabbia Rompendo il vetro E questa scena È molto Potente Perché qui decide Di diventare una maga Credo che qui Perché il Diventare una maga Ha Dei contro effetti Cioè Diventi Non puoi più Fare i figli Se diventi maga Non puoi più Fare i figli Quindi È una decisione Molto difficile Da prendere Quindi Usare la magia Ti permette Di diventare Bellissima Di poter Usare la magia Per il controllo Del fuoco Dell'aria Dell'acqua Di tutti I elementi Ma A costo Di non poter Fare figli Quindi per una donna Questa è una decisione Molto difficile E Probabilmente Qui Si arrabbia E dice Lo faccio Questa scena Sembra ripresa Dall'intro Di The Witcher 1 Quando Geralt Con le catene Lega la strigge Il luogo Sembra anche Il castello di Foltest O comunque Il sarcofago Dove c'è La figlia Che diventa Una strigge Quindi Potrebbe essere Il combattimento Con la strigge Il combattimento Che abbiamo visto Prima Lo stesso luogo Del mostro Che abbiamo visto Prima Lui che Cavalca Roach O Rutilla Come si chiama In italiano Cavallo famosissimo Di Geralt Soprattutto Di The Witcher 3 E questa è la tua vita Questo è Potrebbe essere La strigge La mano della strigge Quella è Triss Triss Mericold Molti si Sono rimasti Un po' male Vediamo se riesco a riprenderla Eccola qua Perché nei videogiochi Triss ha i capelli rossi Mentre nei libri Non viene mai descritta Con i capelli rossi Quindi Secondo me è perfetta così Gli assomiglia I capelli sono perfetti Il fisico c'è Anche il vestito Con la spaccatura È perfetta Secondo me Questa triss è perfetta C'è chi se lamenta Perché Essendo Un romanzo polacco Il fatto che lei Sia un po' scura Di pelle Però Sono dettagli Quindi non Sinceramente Non Non mi va Di mettermi In questo discorso Che sembra Quasi razzista Ma È una scelta Che hanno fatto Lei assomiglia Tantissimo a Triss Quindi Che sia nera Bianca Non importa L'importante È che sappia recitare E Vedremo Come sa Come reciterà Qui viene pagato Allora questa scena Molte donne Sono impazzite Vedendo questa scena Perché Muscoloso Tutto Però Il problema è che Non dovrebbe essere Così muscoloso Geralt Nei libri è descritto Come magro Muscoloso Ma magro Quindi Bracci troppo Troppo Pussenti Troppo Sembra quasi Hulk Non è Non so Probabilmente È un po' Troppo pompato Ecco Però L'importante È che Henry Cavill Reciti bene Da questo trailer Sembra Molto Preso nella parte Da quello che Ho letto Ho visto anche qualche video Di lui Qualche intervista Lui è molto appassionato Della saga Ha giocato Ai videogiochi Ha anche letto i libri Quindi secondo me Lui è molto preparato Su questo gioco Su questa Serie tv Preparato sui giochi È preparato anche Sulla serie tv Sta leggendo anche i libri Quindi secondo me Lui è Molto Concentrato E molto Preparato A fare Geralt di Rivia Quindi A parte questo dettaglio Dei muscoli Un po' Troppo Pussenti Secondo me Ci sta bene Lui Così deve essere Qualcosa La fuori Ti sta aspettando Sintra La regina calante Pavetta E Duni Probabilmente L'esercito di Sintra Pronto Pronto per la guerra Siri Potrebbe essere anche Pavetta Ma penso che sia Siri Perché Vedremo più avanti Pavetta Dovrei vedere bene La scena Quando si vede Pavetta Più avanti Se è lei o no Però così Mi sembra Siri Sacco di topo Sacco di topo È uno Della triade E E che spiega Geralt Che Siri È una donna Straordinaria E lei È la figlia Del destino Lei ha Un destino Che deve Che ha da quando è nata Che deve Deve fare La sua parte Nel destino Lei ha un destino Già scritto Lei deve Fare Risolvere Alcuni Non so come dire Non vorrei Spolerare troppo Quindi Ha un destino Ed è un destino Molto importante Sia per Geralt Sia per Tutto l'universo Di The Witcher Questa scena è molto bella L'albero magico Il deserto A me sembra Quando lei scappa Dall'isola di Avalak Però L'isola di Avalak È molto tardi Nei libri Quindi Mi sembra Prematuro Che già lei Arriva a Avalak L'albero magico Dove lei Dovrebbe essere L'albero in cui Lei rinnega La magia Però Mi sembra Un po' troppo presto Quindi Non lo so Qui dovrebbe Incontrare L'unicorno Non lo so Sembra troppo presto Per questa scena Però Magari È Un'altra scena Io sto Cannando Sto sbagliando Proprio tutto Ma Dai libri Mi sembra La scena Mi sembra questa Quindi Vedremo Se è questo Oppure se È lei Che Per raggiungere La foresta di Brochilon Si perde Se va a finire In questo deserto Potrebbe anche essere Yennefer Tissaia Che spiega A Yennefer Che lei Ha tutte le potenzialità Per diventare La donna Più forte Del mondo E lei In questo momento È molto abbattuta Per tutto Quello che ha passato Il fatto Del suo aspetto Fisico Quindi Lei al momento Ha bisogno Di qualcuna Che la incoraggia E Tissaia Qui Nella scuola Di Aretuzza Gli Gli dà la spinta Per diventare Quella che diventerà Pensa alla donna Più forte Del mondo Ok Lei così si immagina E così diventerà Saresti all'altezza Allora questa scena È molto bella Il fatto che lei Strilla E c'è uno delle fiamme Qui sembra O che lei Gridi Di rabbia Per tutto Quello che ha passato Si sfoga Oppure Qui sta Migliorando Il suo aspetto fisico Togliendo la deformazione Alla bocca E Magari anche Togliendosi La La gobba Perché lei Con la magia Può Migliorare Il suo aspetto fisico Quindi potrebbe anche essere Però anche se fosse Che lei È nervosa E grida E tira fuori Questa fiamma Così per rabbia I primi segni Di magia Che escono in lei Dopo tanti addestramenti Ci può stare Qualunque siate le due È un'opzione Molto importante Molto bella Anche scenicamente Nilfgaard Nilfgaard che arriva Attacca Sintra Molto bella Questa scena Fatta molto bene Devo dire È sull'armatura Magari Se si poteva lavorare Un po' meglio Qui Anche l'espressione facciale Lei Lei Che è un po' sconvolta Ma infatti Lei Fa parte di Sintra Vede che Nilfgaard Sta praticamente Uccidendo tutti i suoi soldati Quindi ci può stare anche L'espressione un po' sconvolta Ecco St'armatura Non è che ci può stare tanto Non mi piace molto Questa armatura Però Avano promesso Che l'avrebbero modificata Perché molti fan Su Twitter L'avano criticata Che armatura è E' bruttissima Di qua di là Però Vabbè Siri Che scappa Perché Nilfgaard è venuta Per lei Per rapirla Sono venuti per lei Pavetta Pavetta la madre Di Siri Che Spazza via Da tutti quanti Con la sua forza Duny Il fidanzato Geralt Che vedete anche lui E' stato Mandato via Da Da questa forza L'effetto scenico Bello Ma Poteva essere Un po' meglio Non puoi scappare Da Siri Scappa Anche se sei terrorizzato Yennefer Avete visto prima Yennefer Che era brutta Con la gobba Deforme Dopo la trasformazione Lei rinuncia A fare i figli Diventando una vera maga E Questo è il risultato Sta arrivando Eccola qua Non male Devo dire Diventata Una donna Molto bella E Cerca Qui Calante Che dice Sul letto di morte Che dice Siri Cerca Geralt di Rivia Cerca Geralt di Rivia E questo Potrebbe essere Geralt Che combatte Contro Gli uomini Di Blaviken In cui diventa Ufficialmente Il carnefice Di Blaviken Perché li uccide Tutti Potrebbe essere Ma E' scritto Nel primo libro Quindi potrebbe esserci La scena Di Blaviken Quindi Che è raccontata Soltanto nei libri Non nei videogiochi Quindi Mi aspetto Che venga Citata O comunque Venga mostrata A video E Se questa Sono molto curioso Di vedere Come viene realizzata Non posso farlo Senza di te A quest'uomo qua dietro Se riesco a ritornare Eccolo Questo qua Mentre Siri Parla con Calante E dice che Non può Cercare Geralt Senza la nonna Questo mi sembra Cair Cair Che Accompagnerà Siri Nelle sue avventure All'inizio Prima che Incontri Geralt Qui Yennefer Che guarda Con ammirazione Geralt I due Poi Si innamoreranno Qui le driadi Sono pronte a colpire Allora qui Yennefer Dice Di correre Probabilmente Ce l'ha Con Siri Non so se Questo è Wingelforce Potrebbe essere La battaglia Di Tanned Contro Wingelforce Ma Non lo so Perché lei Qui Dice A qualcuno Di correre Potrebbe essere Siri Perché mi sembra Che nella guerra A Tanned Siri Scappa Protetta Da Yennefer Ma dovrei Rileggere i libri Sinceramente Da un poco Non li leggo Potrebbe essere Qui Geralt Che lancia il segno Potrebbe essere Lard E questa è Tissaia Che Usa Questa Magia Del fulmine Elettrica E The Witch Il logo E questo È il Kikimor Dovrebbe essere Il guerriero Kikimor Questo Animale Un po' aracnide E Geralt Qui Che ha Preso le pozioni Per combattere Il Kikimor E appena preso Le pozioni Lui diventa Gli escono fuori Le vene Diventa una specie Di vampiro Con gli occhi gonfi Perché le pozioni Sono letali E Per i Witcher No Per gli esseri umani Sarebbero letali Quindi Un essere umano Che prende quella pozione Morirebbe all'istante Ma loro Hanno questa Trasformazione Temporanea Della pelle Diventando quasi Vampiri pallidi E poi Piano piano Tornano Alla normalità Ma avendo Riflessi più veloci E Avendo la protezione Per combattere Contro L'animale Il mostro Che stanno combattendo Quindi ogni mostro Ha bisogno Di una pozione Diversa Ma questo Spero Che sia approfondita Molto bene Nella serie E Niente Poi c'è il simbolo Di Netflix E basta Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate A me Il trailer è piaciuto Sono molto Contento Di come è stato realizzato Fino adesso Spero che Verrà un capolavoro Perché la serie merita E Fatemi sapere E alla prossima Ciao Ciao